Siamo a Roma per la presentazione del duomissimo rapporto Crea Sanità che ha fatto un'analisi sul territorio italiano dell'assistenza socio-sanitaria. Cosa emerge per quanto riguarda le persone con malattie rare? L'abbiamo chiesto ad Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo. Siete analisi innanzitutto un commento sul rapporto che ci hanno appena presentato, un commento a caldo, che impressione hai avuto da questi dati? Intanto la completezza del rapporto è assolutamente evidente. Vedere sulla cartina dell'Italia comunque la differenza fra nord e sud fa decisamente impressione. Dal verde al giallo al rosso e le regioni del sud purtroppo sono tutte in rosso, segno di una difficoltà proprio a trovare quella che è una dimensione che vada incontro al soddisfacimento di alcuni indicatori. Perché il rapporto, lo ricordiamo, non misura solo i parametri variabili sanitarie, ma socio-sanitari. Ed è forse la parte sociale quella in cui il sud è più debole. La parte sociale che non viene percepita come soddisfacente, giusto appunto. Quindi c'è una difficoltà proprio a questa integrazione che è invece fondamentale per la presa in carico delle persone che hanno delle patologie. Senti, parlando di malattie rare, quali sono i parametri che hai attenzionato con più evidenza? Noi stiamo attenzionando con molta evidenza anche quelli che sono gli scambi fra le regioni perché proprio la peculiarità delle patologie rare che porta ad avere terapie avanzate e innovative solo in alcune regioni ci deve far stare attenti sul fatto che questa mobilità possa essere garantita e quindi garantito l'accesso e allo stesso tempo si possa tornare a casa avendo il follow-up senza doversi rispostare ogni volta al centro di competenze. Senti, il rapporto Crea Sanità è un rapporto dinamico, nel senso che ogni anno si aggiungono dei parametri e magari se ne tornano altri giudicati meno importanti. Cosa vorresti che ci fosse per capire la vera situazione di chi soffre di una malattia rare e soprattutto anche dei loro familiari perché la persona non è mai un'entità a sé stante soprattutto in situazioni insomma critiche? Allora, due focus specifici, uno su quella che si chiama la customer satisfaction cioè quindi la soddisfazione effettiva del servizio che viene reso dal servizio sanitario ma anche dal servizio sociale e l'integrazione di queste due e poi sicuramente un focus particolare sulla possibilità di accesso alle terapie.